Quindi la MSM USB da 140 a 500 Watt e frequenza mi pare che ce n'è allora 12 Volt e transistorizzata Si si ma lo stesso di chi studia lì a livello di pilotaggio Raman Kostya 6, cratico e kilowatt Raman Kostya 6, cratico e kilowatt Raman Kostya 6, cratico e kilowatt Raman Kostya 6, cratico e kilowattro 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 ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.